Questo Governo non potrà non partire dalla coalizione che ha vinto le elezioni, il centrodestra, e dal leader della forza politica più votata nella coalizione, cioè la Lega. Naturalmente tale esecutivo ha bisogno di numeri parlamentari che il centrodestra da solo non è in grado di assicurare e quindi dovrà fondarsi su accordi chiari con altri soggetti politici.